Novità incredibili per pensioni e invalidità in arrivo, aumenti, date importanti e nuovi pagamenti in vista. Ciao a tutti e benvenuti su Speedy News. Oggi parleremo delle ultime lavorazioni in PES di ottobre, assegno unico, pensioni, invalidità e molto altro. Restate con noi fino alla fine per tutti i dettagli. E come sempre, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle news che contano. Vediamo insieme cosa ci aspetta. È ufficiale! Il 25 ottobre arriveranno i pagamenti dell'assegno unico. In PES ha già iniziato le lavorazioni e ci sono aggiornamenti anche per il supporto formazione e lavoro. Le disposizioni sono partite il 22 ottobre e il pagamento arriverà il 25. Se siete in attesa, rimanete sintonizzati perché i prossimi giorni saranno cruciali per sblocchi importanti. Ma non è tutto. Anche l'assegno di inclusione potrebbe anticipare i pagamenti al 25 ottobre. Vi terremo aggiornati con conferme ufficiali nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi per non perdervi nulla. E ora parliamo di pensioni e invalidità. Notizie fresche sulle rivalutazioni. Le pensioni minime nel 2025 vedranno un aumento del 2,7%. Anche se qualcuno sperava in un incremento maggiore, l'obiettivo è chiaro, raggiungere i 621 euro con possibili aumenti fino a 650 euro, grazie ai fondi destinati, in parte, dal TFR. Segnatevi anche queste date. Il pagamento delle pensioni inizierà dal 2 novembre per chi ritira imposta e dal 4 novembre per chi preferisce la banca. Non vi resta che restare aggiornati con Speedy News. Se non l'avete ancora fatto, cliccate su iscriviti e attivate le notifiche per essere i primi a sapere quando ci saranno novità sulle vostre pensioni e altri diritti economici. Grazie per averci seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo aggiornamento.